e iniziamo una nuova simulazione allora volevo provare tantissimo questa dei troppi bebè e praticamente in che cosa consiste tipo la seven toddler anzi è la seven toddler però questa volta c'è la possibilità di avere soltanto tre bebè e non sette che sette un po da pazzi veramente ti fa uscire di testa e praticamente che cosa dice è possibile per un sim impadronirsi dell'arte di badare a un nutrito gruppo di bebè fornendo loro tutta l'attenzione la cura e l'amore di cui hanno bisogno per crescere bene secondo me no i requisiti almeno tre sim bebè almeno un sim giovane adulto o di età superiore esiti potenziali quindi quando vincerete la sfida i bebè raggiungono il livello 3 in 4 abilità ok ok secondo me ciò possiamo fare qui dice che il livello di questa sfida è intermedio ok ok vediamo se appunto io sono in grado di farla vediamo intanto vi presento la sim che ho scelto per fare questa sfida la conoscete tutti quanti ma dovete vederla ancora in questa versione che le ho dato io vi presento la cara e vecchia lili feng ebbene sì avete capito bene lili feng e voi direte ma che ci fa lili feng vestita così da poveraccia sì esatto la parola giusta è proprio poveraccia perché che cosa è successo alla cara e vecchia lili feng tutti quanti la conosciamo come la moglie del politico super corrotto victor feng no giusto siamo rimasti tutti quanti qua infatti il politico super corrotto alla fine gli è andata male a victor è stato beccato ed è in carcere e lili si è trovata praticamente senza un soldo senza una casa senza niente e allora è dovuta tornare alle sue vecchie origini peccato che ovviamente dopo tutto quello che ha fatto nessuno la voleva e ha trovato ospitalità in un orfanotrofio praticamente in una casa una casa famiglia e qui praticamente ovviamente cioè se vuoi mangiare devi lavorare e quindi che cosa le tocca fare a lili lavorare lavorare quello che non ha mai voluto fare in tutta la sua vita e per lo più non deve lavorare a stretto contatto con dei bambini ebbene sì e lei se vedete dai suoi tratti o comunque ve lo ricordate lili feng odia i bambini quindi io ho detto a posto è perfetta per questa challenge proprio perfetta mi farà impazzire ebbene sì ebbene sì e quindi appunto questi sono non sono tre sono quattro marmocchi a cui dovremmo guardare che dovremmo guardare e mi sono voluta complicare leggermente proprio di poco la vita perché già un sim che odio i bambini non è complicato no è la cosa più facile del mondo giustamente e quindi praticamente e lili dovrà cioè riuscirà a tornare o comunque almeno a guadagnare una reputazione una volta che vincerà questa sfida e quindi riuscirà a a far crescere per bene questi bambini ad educare questi bambini e quindi verranno adottati una volta che lei li avrà educati ce la farà non lo so noi ci proveremo poi vedremo cosa accadrà ovviamente siccome a me le cose semplici non piacciono lo sapete ho deciso cioè praticamente questa è la casa famiglia di lili che è bella è un tugurio un tugurio in mezzo al nulla bene sì l'ho scaricata dalla galleria non l'ho fatta io ma è bellissima e perfetta per quello che volevo fare assolutamente perché io appunto lili la volevo mandare non in una bella struttura ma in una casa proprio un po disastrata sopra ho messo tutte e cinque lettini ovviamente lili dorme sul divano sì perché appunto non non c'è un altro letto di qua c'è la cucina adesso abbiamo preparato appunto i maccheroni al formaggio per queste pesti qua ho messo poi siccome volevo complicarmi ancora di più la vita ma perché non la mettiamo pure a fare il bucato e le ho messo la cesta per i panni sporchi infatti qui fuori abbiamo appena fatto il bucato qua c'è lo stendino e qua c'è la tinozza per lavare i panni fuori abbiamo messo i vasini perché in casa ovviamente non c'è posto allora l'abbiamo messo fuori per questi poveretti se piove se la tengono usano il pannolino loro e poi di qua ho messo ah qua sopra avevo messo i giochi i tre paperelle avevo messo se li sono già fregati va bene e qui appunto ci sono i cubi e basta sì non ho aggiunto nient'altro no questo è ciò che ho aggiunto mi sembra che hanno l'autonomia sì sì la vita lasciala lasciala così per piacere per piacere non mettermi pure l'ansia della vita perché non ce la posso fare eh autonomia totale ok perfetto questo chi è chi è costui shigeru nishidake no grazie allora quindi noi per vincere dobbiamo eh iniziano già ad urlare ah ho messo pure l'orso ciascun bebè raggiunge livello tre in quattro abilità prima del proprio ah no prima del proprio compleanno allora la devo sbloccare la vita ok la facciamo questa pazzia la facciamo normale buona fortuna a me ok allora siccome mancano soltanto sei giorni qua ci dobbiamo dare una mossa ma una mossa proprio veloce non ti mettere qui a legge dobbiamo educare questi bambini e allora insegnagli a parlare cioè li dobbiamo educare subito così insegna i bisogni essenziali proprio così a razzo però lei crescita rapida crescono così in fretta lei è orgogliosa orgoglio per aver dato lezioni ah va bene nonostante lei odia i bambini però diciamo l'ha presa con un certo entusiasmo questa cosa perché ha detto se io non li educo questi bambini non ne esco viva in poche parole quindi ha detto meglio che faccio qualcosa sì gli stiamo insegnando a parlare va bene ma non sai parlare non ho capito una parola di quello che hai detto bambino non una parola intanto cosa stanno facendo gli altri ok lui sta giocando con la paperella mi sta sviluppando qualcosa tu stai parlando con noi voi due non state litigando vero non litigate no non si abbracciano tenere ok vabbè per ora il primo giorno è tutto tranquillo perché hanno ancora i bisogni al massimo quindi possiamo stare tranquilli ma tutti quanti ciascun bebé raggiunge livello 3 in 4 abilità oh mamma mia è più difficile di quanto pensassi non è che basta un'abilità attesa no devono avere 3 no 4 non ce la posso fare non ce la posso fare lì lì vediamo a lì se esce qualcosa basta che non esce li uccido tutti sì un valore di 100 a parte che lo sai che hai troppi soldi te li devo togliere si perfida con un bambino uh livello 4 di comunicazione grande grande è un'abilità andata vai sì ok ce la posso fare vai sono ottimista ce la posso fare ce la posso fare su tu vuoi venire a mangiare no ti devo pure prendere e portare giù non ce l'hai le gambe non te la fate mamma le gambe oh mamma mia che faticaccia questi bambini allora tu giù qui e mangia io ho bisogno di parlare con qualcuno non con me parla con i tuoi quasi fratelli e sorelle poi mentre lei ma mentre lei mangia dove state scappando voi due per piacere non scappate è un pasticcio questo l'abbiamo beccato in tempo questo invece mi sta facendo il pasticcio allora lui lo portiamo di sopra a dormire ok ma questa è ancora questa puntata sarà calmissima perché i bambini stanno ancora bene aspettate che si riprendono aspettate che si riprendono brava brava parla con questo tu no no perché è nuda oddio ecco che ah però le pantoffrate le piedi oh mamma mia ce la posso fare tu non hai sonno sì ma devi usare anche il vasino mo ti faccio usare il vasino mi insegna a usare il vasino a Vanessa sì mi dicono che Lily non gradisce questo arredamento ma dai non avevo dubbi su questo lo sai oh che bello sono tutti qui a dormire come degli angioletti così dovete rimanere così tutto il tempo e poi mi sono accorta che avevo messo un letto in più praticamente ero sicura che fossero 5 non 4 vabbè Lily è morta sta andando a dormire sul divano che bellezza sarà comodissimo questo divano immagino proprio comodissimo e noi ci vediamo la mattina appena si svegliano e purtroppo il primo bambino già si è svegliato allora ripulisci questi piatti ok sta bene però arrabbiati oh mamma con chi ti arrabbi con chi oddio si sono svegliati tutti ahhh eh Lily abbiamo un problema qua ok allora aspetta aspetta un attimo ci penso io innanzitutto serviamo la colazione che cosa sai cucinare niente e saranno felici si mangeranno la macedonia fa bene e frutta fa bene oh mamma mia già si sono svegliati uno più arrabbiato dell'altro reagisce alla prima neve ma che te ne frega della prima neve vieni qua vabbè un momento felice di questa giornata fammelo godere c'hai ragione ragazza mia scusami almeno un momento felice perché io vedo solo una bambina qui sotto gli altri che fino hanno fatto allora tu non lo so che cioè si tu vuoi troppe cose venite a mangiare tutti quanti prima poi pensiamo al resto ok tu stai mangiando oh mamma mia adesso inizia che cosa avete fatto qui tu dove ti sei buttato nel fango e tu pure oh mamma mia guarda ci sono i piatti pure qua ci sono i piatti ovunque fai un bagno non lo so a qualcuno lascia stare quel bambino fai un bagno chi è questa credo che sia Vanessa non lo so raggiunto il livello 3 di comunicazione no Vanessa forse è l'unica pulita non ce la posso fare lascia stare quel bambino ma ci sta importunando sto bambino vuole stare sempre in braccio scendi ancora voglio piangere mi vuoi lascia stare prendi questo bambino buttalo nella vasca o in lavatrice no la lavatrice non ce l'abbiamo buttalo nella vasca direttamente e facciamo prima tu perché urli perché scendi a mangiare corri vai tu mamma mia questo è solo cioè questo è sempre il primo giorno dire cioè con voi ma è il secondo giorno qui con questi cioè io già io mo li ammazzo a tutti avete capito tu che hai ascoltami stammi a sentire per essere un bebe viziato scendi bebe viziato ma perché ma le sai fare le scale cammina bambini dovete collaborare perché sennò qua vi portano via e io perdo la challenge è chiara questa cosa oh mamma mia ma tu che hai passato ok e ok un attimo poverina tutta triste e poi pure lei ha bisogno di un bagno vieni qui che mo tocca a te e poi devono dormire perché queste poverette sono andate a dormire più tardi e poi sono state svegliate da questo maledetto qua che si è messa ad urlare come un pazzo tu stai bene tu stai benissimo tu stai usando il vasino ok perfetto sto riprendendo il controllo eh sto riprendendo il controllo della situazione per ora per ora oh mamma Lily sta per impazzire io dietro di te sto per impazzire vieni qua Vanessa non scappare devi farti il bagno allora mo tu hai bisogno di divertirti e di socializzare vieni a parlare con questo bello orsone qua guarda socializza con lui che ti risponde si 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 vieni che ti risponde e poi pure la paperella gioca un po' io non so nemmeno cosa stanno facendo gli altri bambini non lo voglio nemmeno sapere gioca con questa almeno notifiche non mi stanno uscendo quindi vuol dire che stanno bene almeno me lo auguro eh ma tu dovessi usare anche il vasino cara vabbè vattene a dormire va che è meglio va a dormire lei sta malissimo ma proprio malissimo peggio di tutti i bebè a sto punto ok no vabbè ma io non ce la faccio questa bambina continua a scappare per andare a dormire sulla dondolo cioè ma si può torna a dormire qua dormi qua nel tuo letto come tutti i bambini normali no no lei deve dormire sulla dondolo vieni qua a dormire pure tu forza fate le scale così almeno non sai fare le scale non sai fare le scale voglio piangere mettila a dormire ok ultimo bebè a letto perfetto dormi 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 no dormi non vuole dormire dormi dormi lei è stremata tu vieni a farti un pisolino sul divano che fortuna basta ok dai io mi fermerei qui con questo episodio l'unica cosa voglio vedere con questa puntata cosa hanno fatto i baibè allora lui come ti chiami salvatore mi è arrivato a livello 4 di comunicazione quasi livello 5 quindi benissimo però immaginazione e movimento ce l'ha ancora 2 però ci siamo me ne deve un 4 abilità ok pensiero siamo a 0 vasino siamo a 0 fantastico poi abbiamo Lorenzo invece comunicazione livello 3 immaginazione 2 e siamo in alto mare oh mamma con lei siamo messe malissimo con Valentina e con Vanessa siamo messe malissimo ok fantastico ci riproveremo nel prossimo episodio vediamo un po' se riesco a far salire un po' le abilità di questi bambini soprattutto se imparano a farsi le scale è già un traguardo per me con questo è tutto noi ci vediamo al prossimo episodio ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti